quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita canzoni viaggi persone storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'auditorio un parco della musica ennio muricone di roma incontro persone amici colleghi che per un motivo per l'altro per me sono state o sono importanti io sono daniele silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un video podcast targato fandango live signore e signori non so se l'avete già capito ma c'è paola cortellesi ciao a tutti mi posso alzare in piedi buonasera grazie 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 mille per me può andare avanti quanto mi pare è una cosa straordinaria straordinaria questo è sarà un denario tutto sarà un denario grazie 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 questo era per non farmi continuare la canzone è tutto un complotto ovviamente il primo grazie te lo devo dire io perché anche solo l'incastro per esserci qua stasera un piccolo miracolo comunque questa è una chiacchierata che ha un suo titolo come vedi è già abbastanza geniale ma anche una meravigliosa sigla che vorrei che tu ascoltassi con attenzione prego la conoscevo non è anche questo posso dire ragazzi complimentoni a tutti veramente vi stimo da anni e oggi avete dato proprio la c'è proprio la sigla che allora paola mi hanno detto che recentemente dovrebbe essere uscito un film che non sta andando non è non ha funzionato molto però perché è un po il cinema italiano siamo contenti lo stesso ma il cinema italiano è così perché poi uno fa una cosa l'avranno visto in pochi qualcuno magari più avanti qualcuno più avanti sai che spesso sono cose che poi dopo negli anni da dopo morta dopo la morte poi ricicciano le vecchie cose sai che non era male quel film infatti è un peccato perché qualche cosina di carino c'è dentro ci sono delle cose carine a ben guardare scusa solo una domanda posso illumina un attimo un po anche la sala volevo soltanto fare una ricerca statistica quanti di voi hanno visto c'è ancora domani gioco in casa gioco in casa non giochi in casa è che questa è la statistica vera e fa impressione e te la meriti grazie di cuore no ma seriamente grazie grazie vabbè io non volevo neanche parlare di quello perché non farai altro che parlare del film continuamente anche perché ieri stavi a parigi l'altro ieri dopo domani stai in germania sì a parlare del film sta conquistando il pianeta ancora ancora piano 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 e da quello che sento piano piano il tedesco i tedeschi che gli racconto perché poi ogni paese diciamo in svezia per dire piaciuto moltissimo pensavo ma che capiranno gli svedesi no lasciare gli svedesi lasciare lei le vannoli che si inventa alvaro che si inventa che ha visto il morto vivo va bene comunque questo voglio ma le rare per te che non l'hai visto ho visto che questa ma che poi vorrei sentirlo doppiato in svedese per altro le vannoli ma questa è un'altra sì questa è un'altra cosa bello come si può doppiare tutto il tedesco lo sai peraltro un po si domastico lo mastico vabbè questa signorina qui ha un discreto numero di talenti un pochino quasi troppi secondo me quando ti hai iniziato a capire che volevi fare è stato un problema forse averne così tanti cioè no se vuoi racconto un aneddoto che mi riguarda di quando ero ragazza te lo faccio raccontare ma prima volevo sapere c'è qualcosa che non sai fare adesso non è per fare lo sbruma proprio mi interessa con curiosità personale tipo cucinare cucinare cucino bene c'è mio fratello in sala che può confermarlo c'è mio fratello in sala con mia cognata che vengono per la seconda volta sono tuoi fan ma non sto qui adesso poi se mi fai una foto comunque mio fratello può testimoniare che in cucina gli ammollo guidi bene la macchina guido bene la macchina mio marito in quinta credo sia no che lui sostiene di no però è sempre la solita cosa moglie marito io guido meglio di te io sostengo di poi tu c'avevi una fissa del camion a un certo punto della tua vita quando ero ragazzina volevo fare la camionista ma perché ma che ne so perché c'era c'erano queste sale serie le serie degli anni 80 americane e c'era la questa serie non mi ricordo mai come si chiama che c'era chi ha una cinquantina d'anni come me si può ricordare questa serie con un camionino sostanzialmente un bonazzo che guidava questo camion con una scimmietta aveva anche e ve lo ricordate uno bono che guidava io pensavo che guidare il camion sulle strade del chiantaghi ho sentito anch'io dei sì ma qualcuno si ricorda il titolo e lo vuole urlare jack drive drag drive track drive a track track scusa sai masticolo è te lo sei inventato no il tedesco no se lo sei inventato non è vero non lo so non lo so però eh e mi piaceva tanto ho pensato che bello fare quel mestiere così un giorno lo comunicai a mio padre e oggi peraltro è un giorno speciale e e perché scusa no sarebbe il compleanno di mio padre che però è morto adesso io non ho capito però però lo salutiamo lo stesso un applauso a papà però sarebbe il suo compleanno è il suo compleanno quindi è un giorno speciale insomma lo condivido con mio fratello in sala e lo comunicai a papà e papà mi disse papà io voglio fare la camisa perché a papà un uomo buono un uomo gentilissimo mi ricordo sta cosa e lui un po preoccupato per questa mia prima ma ero ragazzina guarda o quello o la tennista mai tenuta una racchetta in mano quindi quello non lo sai fare non sono proprio non ho mai tenuto una racchetta in mano non so giocare a calcio e insomma non so fare un sacco di cose ci mancherebbe altro sarà allora torniamo a quello che stavi per raccontare prima quando ti dicevo quando era una ragazza e me la cavavo a cantare andavo proprio a cantare lo facevo anche ma di mestiere lo facevo ma nei locali così per alzare e dolire e fece un provino per un musical le cui musiche erano state composte da ma già siamo arrivati lì ma siamo troppo avanti ma perché raccontala te che la racconti meglio no vabbè questo è il come ci siamo conosciuti che non so se la racconto meglio però ci siamo conosciuti in realtà è stato un piccolo sliding door non credo che ti sarebbe successo niente di molto diverso però hai fatto una scelta che comunque da qualche parte ti ha portato tu stavi già facendo credo teatro facevi già teatro comunque io mi è capitato di fare le musiche per un musical che si chiamava frankenstein musical motivo per cui all'inizio avete visto non chi guarda eventualmente dopo ma avete visto una specie di frankenstein e quelle erano spettacoli di Tullio Soleni con un po di musicisti dentro è un vero musical e sceglievamo cercavamo chi dovesse interpretare il ruolo femminile perché c'era un ruolo femminile una rilettura un po particolare e c'era una canzone che avevo scritto io per cui vennero al teatro Sistina in quel caso a provare a provinare una serie di ragazze e chi abbiamo scelto noi perché era notevolmente la più brava di tutte sia per come stava in scena che soprattutto per come cantava paola cortellesi solo che ho voluto alzare sta cosa c'è un tempo di deciderlo più o meno no di fare tra di noi le valutazioni ma era un coro di sì e comunicarlo e lei ci ha detto sì però contemporaneamente mi avrebbe chiamato Gianni buoncompagni e si è andata a fare Macao a fare Macao perché mi avevano anche lì ho fatto un provino e volevo fare una cosa divertente io volevo fare una cosa che faceva ridere quindi mi avevano preso per fare questa cosa dove facevo un personaggio assurdo no facevo un'argentina una che parlava in questo modo e così però andava in giro che era un'anima buona un'anima buona che andava in giro però era un'argentina che era molto naif e andava in giro nel mio quartiere e incontrava il piota il catena e si muoveva un poco come mister ma vu perché perché lei era salva sempre aveva sempre salva la vita ma nel frattempo aveva rischiato diciamo la pelle ed era un personaggio io volevo tanto fare questo personaggio così quindi mi avevano presa per fare un programma comico io non vedevo l'ora di fare questo programma comico quindi chiamai Tullio e non avevo il tuo numero chiamai Tullio e fu gentilissimo mi disse vai tranquilla se questa è un'opportunità tutti abbiamo capito che era la scelta giusta poi abbiamo la seconda arrivata diciamo classificata in realtà era brava e andò bene però è significativo che ci siamo conosciuti così per poi ritrovarsi ad avere svariati amichetti in comune un po' l'abbiamo visti fra l'altro praticamente stanno tutti nel film stanno tutti nel film perché se io faccio se io faccio il mio primo film non ma chi si fida di me però adesso sì vabbè diciamo così amici di una vita probabilmente io penso che non in molti avessero intuito che cosa poteva succedere ma credo fosse impossibile però a giudicare da quello che ho visto c'era anche come è stato affrontato tu avevi le idee molto chiare e chi si è fatto guidare da te in realtà ti ha seguito tanto perché vedere valerio tenere il personaggio in quel modo non so quanto è stato facile nel senso valerio è bravissimo però era facilissimo divertirsi da morire tutti ci abbiamo lavorato tanto perché era un personaggio complicato doveva essere credibile sia in un ruolo drammatico duro farci paura e poi anche però credibile nei momenti folli insomma nel ridicolo e chiaramente noi due tendiamo a spingere più sul ridicolo però lì avevamo entrambi le idee chiare ci abbiamo lavorato bene la misura è strepitosa però voglio fare mi sono ripromesso di non parlare di tanto di quello faccio un po fatica racconto solo questo perché mi riguarda quando circa un anno prima che il film uscisse mi mi arrivò la richiesta no di usare una mia canzone in un film che stava facendo paola cortellesi io credo di aver detto di sì subito ma insomma senza poi ricordarmelo nemmeno dopo poco tempo dopodiché a un mesetto dalla prima opporse stavo ancora in montaggio 3 4 vabbè una percezione del tempo tutta mia comunque poco prima dell'uscita del film mi avvisa con un messaggio molto carino per dirmi o forse mi ha chiamato proprio non ci sono chiamato io per tutti ricordi tutto io mi ricordo tu ma c'era il mestiere mio e tu ma è una cosa impressionante poi vi dico cosa si è ricordata quando siamo visti io mi sono ricordata sola così cioè si ricorda la canzone che ha provinato nel 1996 una volta al sistina per poi andare a far male perché è una canzone tua e perché c'è un mio problema però anche per i sensi di colpa di non averlo fatto e me la ricorderò sempre e t'ho chiamato io per dirti Daniel ma lo sai perché noi abbiamo parlato solo con la casa discografica lo sai che c'è un pezzo tuo guarda io lo uso tutto sarà bello secondo me ti piacerà e lui gentilissimo si fa piacere bene c'ho tanti ricordi legati a quella canzone e lui va bene ma non sai come c'era mia figlia piccola in braccio mentre io ti ascoltavo a Sanremo non hai capito l'emozione insomma gli ho attaccato gli ho attaccato un siluro al telemo non è vero non è vero invece si è stata a me quello che è arrivato era una cosa molto più piccoletta c'è una scena in cui c'è la tua canzone devo dire che abbastanza bella abbiamo fatto qualche prova col pubblico sembra sembra che piaccia così poi alla prima mi ha invitato mi sono seduto come forse è successo a tutti voi alla fine di quel film quando c'è quella scena e non è merito della mia canzone è merito del film che ha fatto Paola quello che succede è magico non puoi non metterti a applaudire come un cretino non puoi non avere le lacrime che scendono non puoi che questo sia successo con una cosa che ho scritto è il motivo per cui sei qui oggi nel senso che davanti a tutti quelli che posso voglio dirti grazie perché non succede di fare questo mestiere e poter avere la fortuna che una cosa che è scritto venga usata in un modo così pieno davvero pieno quindi grazie a te grazie a te per averla scritta e poi mi ha raccontato e questo puoi raccontarlo tu che quasi nasce da lì cioè che comunque quando l'hai sentita dieci anni prima quando l'ho sentita avevo in braccio mia figlia appena nata guardavo Sanremo avevo la mia figlia piccolina piccolissima appena nata in braccio Laura e quella canzone però non l'ho messa per una questione di evidentemente è successo magari non è casuale però l'ho sempre amato quel brano l'ho amato tantissimo e riascoltandolo perché ce l'ho nella playlist e riascoltandolo stavamo pensando al finale scrivendo quel finale e ho pensato ma io metto soltanto la canzone di Daniele tutto il resto va da sé perché non c'è bisogno di dialoghi non c'è bisogno di nulla basta basta bocca chiusa ed è stato così e sua bocca chiusa abbiamo poi lavorato anche sceneggiatura per seminarla questa cosa quindi sei responsabile di un sacco di cose sì sì no inconsapevole come responsabile però sono ancora più grato tra l'altro il tuo produttore che ho incontrato la sera prima mi aveva detto che la prima cosa che gli hai detto è se non c'ho sta canzone non posso fare il film che bello ma quando mi ricapita cosa del genere ho detto io questa canzone non so no non faccio il film senti invece il fatto che il film e grazie al film anche la canzone siano anche coincisi con un momento storico in cui parlare di queste cose non solo di quello che poi si scopre per quelle tre quattro persone che non hanno visto il film e quindi non sanno dove va a parare però sanno tutto il resto che è un contesto che è fondamentale aver raccontato così sì beh non è diciamo non è una coincidenza è stata perché di quello volevo parlare visto vista la situazione insomma in cui viviamo sappiamo cosa ci racconta la cronaca ci racconta di femminicidi ogni 72 ore quindi abbiamo un problema e volevo raccontare naturalmente questo e poi inserita in quel contesto storico lì per raccontare come dire diritti negati diritti acquisiti e difficile non dire poi dire non dire certo e e poi sì è coinciso con altre cose che sono capitate sì sì io ogni tanto ci scambiamo anche dei filmati con appunto in cui o le immagini o quelle note quelle parole vengono associate a momenti importanti in cui ci sono delle battaglie nemmeno più solo quelle però tante che vengono fatte in questo momento credo che tu abbia rappresentato non solo un periodo storico ma forse come non succedeva da alcuni decenni un intero paese signore e grazie 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 paola cortellesi grazie 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 a rifaccio quella sigla e mo però non te ne va è straordinaria questa sigla raga è vero ti avevo pensato grazie a tutti grazie a tutti